Saluto tutti voi nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. È una sorpresa per me avere questa riunione. Tuttavia siamo radunati nel nome del Signore Gesù Cristo. Per condividere la sua parola con voi. Io ho speciali saluti per tutti voi. Specialmente dai vostri fratelli. Dal fratello Auna, dal fratello Hans ed Herman, Miro, Pino, Pino Davi, Pino e molti altri. Il fratello Pino dall'Italia, ci saluta il fratello Miro dalla Sovacchia. Sì, noi siamo uno nel Signore. Una grande famiglia su tutta la terra. Io guardo indietro a settimane di speciali riunioni. Nel mio ultimo viaggio internazionale sono stato in Sudafrica ed anche in Malawi ed in Mozambico. E Dio ha benedetto in modo potente. Alcune volte abbiamo avuto più di 8.000 persone in una riunione. La verità va avanti. In una città in cui ha predicato il fratello Branham, era nel 1951. Tutti voi sapete che il fratello Branham è stato a Durban. Le riunioni furono alcune delle più straordinarie che egli abbia mai avuto. Fu là che furono caricati 7 camion con lettighe, stampelle e così via. Ed io ho dato una buon'occhiata allo stadio sportivo. Sì, dove il fratello Branham ebbe le riunioni. Tuttavia, quando ho sentito che in quella città ci sono 11 lingue diverse, e quattro lingue ufficiali, quello non era così male. Ma quando mi fu detto che vi erano 28 diverse chiese del messaggio a Durban, allora il mio cuore era veramente a pezzi. Io credo che ogni fraintendimento venga dal nemico. Ogni interpretazione, ogni interpretazione sbagliata viene dal nemico. e Dio è solo nella sua parola. Ed il nemico è in ogni interpretazione. Tuttavia, Dio ci ha dato una grande vittoria. dopo l'ultimo servizio le persone si sono salutate a vicenda e i fratelli si abbracciavano gli uni gli altri. Il ministero che abbiamo oggi è per l'edificazione del corpo di Cristo. non per rappresentare un certo insegnamento, ma per portare tutta la parola di Dio. Dopo, naturalmente, il nostro fratello ha già menzionato il fratello Nino e Pino in Italia. Sì, noi abbiamo avuto pure tre meravigliose riunioni. e il nostro fratello Genton era l'interprete. Sono ora quarant'anni che egli è missionario in Italia. E noi confidiamo che Dio avrà pure la sua via in Italia. Ci sono molti rumeni in Italia. il 18% di tutti gli stranieri in Italia sono rumeni. Così, molto presto, ci saranno delle buone riunioni. I vostri fratelli sono già in Portogallo e in Spagna? e dopo avremo anche delle buone riunioni in Italia. Voi avete tanto motivo di essere riconoscenti a Dio. Dicembre per me è pure un mese speciale. E' stato il 18 dicembre quando il fratello Branham ha avuto l'incidente. Ed era il 24 dicembre quando egli fu preso nella gloria. Ed io vi ho detto questo prima. non ero a conoscenza dell'incidente che aveva avuto il fratello Branham. Tuttavia ho visto il fratello Branham in una visione il 24 dicembre. Salire su una nuvola era un'immensa nuvola. e il fratello Branham era inclinato così non dritto ma inclinato così ed egli era preso su preso su ed io guardavo e in questa visione io dissi fratello Branham tu non sei il figlio dell'uomo perché ti vedo su questa nuvola io non ero a conoscenza dell'incidente non ero a conoscenza della sua morte tuttavia ho visto il fratello Branham essere preso su una nuvola e se voi andate in Apocalisse capitolo 11 persino i due profeti saranno presi su una nuvola Apocalisse capitolo 11 se voi andate in primo test all'unicesi capitolo 4 verso 17 noi saremo presi su una nuvola nell'antico testamento il Signore è apparso nella nuvola della gloria in Matteo capitolo 17 quella nuvola soprenaturale è scesa e la voce di Dio è venuta da quella nuvola questo è il mio diletto figlio ascoltatelo tre parole ascoltatelo così noi possiamo andare nelle scritture nell'antico e nel nuovo testamento e vedere la continuazione della stessa parola della stessa manifestazione per noi è assolutamente straordinario che il Dio del cielo ha rivelato la sua parola in una maniera così meravigliosa e poiché questa non è una riunione ufficiale lasciate che vi dica io ho dato la mia testimonianza molte volte ma voi non siete soltanto miei fratelli voi siete miei amici e il nostro signore ha detto ai suoi discepoli il servo non sa quel che fa il suo signore così io vi ho chiamati amici sapete Abramo era amico di Dio e e il signore gli parlava c'era una particolare amicizia fra amici così io guardo indietro a tutti questi anni guardo indietro al 1948 quando molti di voi non erano ancora nati io ero nato di nuovo tramite lo spirito santo nel 1949 quando vennero alcuni amici dagli stati uniti predicando il pieno vangelo nella città di Hamburgo Germania noi avevamo riunioni di preghiera fino a notte riunioni di preghiera per ricevere il battesimo con lo spirito santo e dopo giunse il momento in cui fui battezzato con lo spirito santo ma nel 1950 155 quando il fratello Branham venne in Germania e in Svizzera quando lo ascoltai nella prima riunione quando ho visto quello che Dio stava facendo ebbi un solo pensiero cosa crede questo uomo cosa insegna come battezza cosa insegna in merito alla Deità io ero già nel Ministero nel 1953 sono stato l'oratore principale in una conferenza così ho conosciuto tutti gli insegnamenti e tutte le lotte in mezzo ai diversi gruppi sapevo in merito alla Trinità all'unità e il battesimo in questo e in quel modo così quando ho visto la presenza di Dio manifestata la mia prima domanda è stata cosa crede questo uomo io posso vedere che Dio è con lui perché nessuno può fare quelle cose a meno che Dio sia con lui io ho visto i ciechi ricevere la vista ho visto i giorni della Bibbia con i miei propri occhi ho visto il libro degli atti ripetersi davanti a me così io seppi che questo non era soltanto un uomo che predicava ma un uomo mandato da Dio in quel tempo non ero a conoscenza del messaggio tuttavia di ciò sapevo abbastanza questo è un vero uomo di Dio e dopo poiché avevo questo desiderio di sapere cosa gli insegnava ho voluto vederlo negli Stati Uniti avevo il desiderio di essere nelle sue riunioni nel 1958 non lo dimenticherò mai ci fu una grande conferenza con Gordon Linz Voi conoscete Gordon Linz e gli ha scritto il libro un uomo mandato da Dio William Branham un uomo mandato da Dio così io ero in quella conferenza nel giugno 1958 e c'erano tutti grandi predicatori potenti evangelisti essi prendevano il microfono e correvano attraverso la piattaforma predicavano con grande dinamica tuttavia la sera il fratello Branham era l'oratore principale allora io vidi di nuovo la differenza fra tutti gli altri evangelisti e il fratello Branham e il suo ministero io osservai il primo il secondo il terzo giorno e di nuovo mi posi la domanda qual è la differenza fra te William Branham e tutti gli altri predicatori c'è una differenza ma qual è la differenza e allora andai dal fratello Branham e glielo chiesi realmente dissi fratello Branham e avemmo un meraviglioso colloquio e gli mi chiese in merito ai fratelli e alle sorelle in Svizzera e in Germania mi mostrò il suo orologio datogli dal dottor Guggenbull a Zurigo ma dopo venne il momento in cui dissi fratello Branham io voglio conoscere la differenza fra il tuo ministero e il ministero di tutti gli altri fratelli e dopo egli rispose disse fratello Frank io ho un messaggio ho un messaggio da portare un messaggio da Dio per il popolo di Dio nel giugno 1958 ho udito per la prima volta la parola messaggio in quel momento non sapevo cosa significasse era la prima volta ma cadde nel mio cuore ho un messaggio da portare alla fine di quella conversazione ed era l'11 giugno proprio la stessa data in cui il Signore parlò al fratello Branham nel 1936 come Giovanni il Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo alla fine di quella conversazione il fratello Branham disse fratello 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 tu ritornerai in Germania con questo messaggio io parlo a voi come un amico fa con un amico da fratello a fratello e dopo naturalmente quando il fratello fu preso nella gloria io seppi al riguardo il 5 o il 6 gennaio che egli era stato preso nella gloria io lo avevo visto andare su una nuvola ma in quel momento non sapevo che egli era morto così voi potete immaginare cosa mi accadde ero così triste non potevo comprendere perché era accaduto questo voi conoscete la mia testimonianza ma il giorno del seppellimento piansi per circa due ore parlando al Signore e dicendo riassumendolo in una sola frase caro Signore dimmi come può la Tua Chiesa sposa essere preparata senza questo ministero ma in quel momento non realizzavo quello che il Signore aveva detto nel giugno 1933 il messaggio dato a te precederà la seconda venuta di Cristo e 41 volte il fratello Branham lo enfatizza e dice non io ma il messaggio sarà il precursore i fratelli negli Stati Uniti lo cambiano essi non lo credono credono che con il fratello Branham ogni cosa sia terminata voi potete andare in tutte le principali città nel messaggio essi lo cambiano e dicono come Giovanni il Battista ha preceduto la prima venuta di Cristo tu William Branham precederai la seconda venuta di Cristo così essi affermano che il fratello Franca è nell'errore e tutti gli altri fratelli sono nell'errore essi persino dicono che il fratello Franca non ha diritto di predicare dicono molte cose diverse ma per la grazia di Dio tramite la diretta guida dello Spirito Santo e tramite quello che il Signore Dio ha detto in anticipo noi rispettiamo ogni parola nel modo in cui Dio l'ha detta e noi ritorniamo indietro nel giardino dell'Eden lì il nemico aggiunse una parola a quello che Dio aveva detto nel capitolo 2 nel capitolo 3 verso 1 egli aggiunse una parola la parola no e ciò cambiò tutto il significato ora se voi dite con William Branham ogni cosa è terminata allora perché siamo qui perché predichiamo vedete cari fratelli quanto sia importante ascoltare ogni parola precisamente e credere ogni parola precisamente nel modo in cui è scritto e nel modo in cui è stato detto i fratelli vanno persino così lontano da dire poiché la nuvola sopranaturale scesa nel febbraio 1963 rimase illuminata 28 minuti dopo il tramonto locale ed io ho l'articolo nel mio ufficio ho l'articolo della rivista scienze ho l'articolo della rivista life e il dottor James McDonald ha scritto che la nuvola è rimasta illuminata 28 minuti dopo il tramonto locale e sapete cosa fanno i fratelli con quello essi lo paragonano ad Apocalisse capitolo 8 dove leggiamo in merito al settimo suggello ci fu silenzio per circa mezz'ora così essi dicono 28 minuti sono circa mezz'ora e dopo dicono così quello si è già adempiuto miei cari fratelli è un'assoluta tragedia quello che il nemico fa dentro il messaggio le numerose interpretazioni sì tragedia è la giusta parola ma dall'altro lato con un cuore riconoscente noi riconosciamo la guida dello spirito santo permettere ogni cosa secondo la parola di Dio ed io ho scritto nella lettera circolare di dicembre ma tu non ce l'hai l'importanza di piazzare ogni cosa su due tre o più scritture quello dovete farlo in modo assoluto voi non potete costruire alcun insegnamento su un solo verso voi dovete avere due tre o più versi della scrittura vi faccio l'esempio di Matteo capitolo ventotto verso diciannove voi potete dire centinaia di volte Gesù ha detto Gesù ha detto Gesù ha detto ma se non portate quello che Gesù ha detto in Matteo in quello che egli ha detto in Marco in quello che ha detto in Luca in quello che gli ha detto in Giovanni e se persino non prendete questi quattro Vangeli e quello che Gesù ha detto dopo la risurrezione nel libro degli atti per vedere in realtà come è stato eseguito l'incarico voi potete ripetere Giovanni capitolo venti verso ventitré a chi perdonerete peccati saranno perdonati e a chi li riterrete saranno ritenuti se voi non lo portate nel libro degli atti voi dovete andare persino in Luca capitolo ventiquattro verso quarantasette nel mio nome predicherete il perdono dei peccati noi predichiamo la remissione dei peccati e quelli che credono ricevono il perdono quelli che non credono non ricevono il perdono è quello che Dio offre alla gente attraverso la predicazione non di andare a dire io rimetto i tuoi peccati non rimetto i tuoi peccati tuttavia la stessa cosa si applica a tutto quello che ha detto il fratello Branham voi non dovete prendere soltanto un verso o un'affermazione dovete andare alla successiva alla successiva alla successiva una volta il fratello Branham ha detto l'agnello ha lasciato il seggio di grazia ed ha preso il libro da colui che siede sul trono quella era un'affermazione ma se andate nella scrittura allora sappiamo quello che il fratello Branham intendeva dire noi comprendiamo dalla parola di Dio Gesù Cristo era l'agnello di Dio che ha tolto il peccato del mondo morendo per noi sulla croce ma dopo noi andiamo in ebrei capitolo 9 quale sommo sacerdote egli è andato con il suo proprio sangue nel santuario celeste quale agnello di Dio egli morì verso il suo sangue ma doveva essere sommo sacerdote e come nell'antico testamento il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo per portare il sangue sul seggio di grazia così Gesù Cristo come sommo sacerdote ha preso il suo proprio sangue è entrato nel santuario celeste ed ha posto il sangue sul seggio di grazia così dobbiamo riportare ogni cosa indietro alla parola di Dio quando la scrittura parla del figlio di Dio dove essa parla del figlio dell'uomo dove parla del figlio di Davide dove parla del figlio di Abramo dove parla dell'agnello di Dio dove parla del sommo sacerdote dove parla del mediatore dove parla dell'avvocato tutte queste scritture hanno il loro posto e voi non potete mai cambiarle se voi andate in Apocalisse capitolo 5 noi leggiamo il leone della tribù di Giuda ha vinto voi vedete entrambi l'agnello e il leone il leone della tribù di Giuda il leone non è in collegamento con la chiesa è in collegamento con Israele la tribù di Giuda ciò riporta indietro in Genesi capitolo 49 dove l'uomo di Dio benedisse la tribù di Giuda ciò va dritto nell'antico e nel nuovo testamento così noi comprendiamo dalle numerose scritture che quando il Signore viene in Apocalisse capitolo 10 egli non viene come sposo non è Matteo capitolo 25 egli non viene con tutti i suoi santi non è primo testa l'unicesti capitolo 3 verso 13 non parla della risurrezione dei morti no è una venuta totalmente diversa una venuta totalmente diversa come angelo del patto voi mi avete sentito dire questo prima in Malachia capitolo 3 ci sono dette due cose nei versi 1 e 2 io mando il mio messaggero davanti a mia faccia per preparare la via davanti a me ma la seconda parte è l'angelo del patto che voi bramate entrerà nel suo tempio santo è in Malachia capitolo 3 verso 1 ma solo la prima parte è menzionata nel nuovo testamento la seconda parte non è menzionata nel nuovo testamento come è perfetta la parola di dio e come è gloriosa la guida dello spirito santo io ho scritto in questa lettera circolare che dal momento in cui il signore scende come angelo del patto ci saranno solo tre anni e mezzo per il regno milleniale e noi possiamo ritornare indietro al profeta daniele e dopo di nuovo nel libro dell'apocalisse e vedere tutte queste cose messe al loro posto cari fratelli questo è pure il vostro ministero noi non siamo profeti dio ha mandato un profeta e noi siamo felici per quello ma ora noi abbiamo la scrittura profetica ed abbiamo il ministero profetico di William Branham un uomo mandato da dio con la parola di dio per il popolo di dio che ci informa in merito a tutto il piano di salvezza ma è il nostro ministero mettere ogni cosa al posto giusto e prima che possiate farlo avete bisogno della guida dello spirito santo ed ora il tempo è giunto in cui tutti i fratelli nel ministero dicano le stesse cose credano le stesse cose poiché soltanto se noi come predicatori siamo uno gli unigli altri e con il signore tutto il corpo di cristo sarà uno se predicatori sono divisi la chiesa sarà divisa se i predicatori hanno le loro proprie vie la chiesa avrà le proprie vie così il tempo è giunto per tutti noi di umiliarci sotto la mano di dio affinché i diversi ministeri possano lavorare insieme così noi comprendiamo dalla parola di dio la nostra responsabilità io ne ho parlato e ne ho scritto al riguardo abbiamo la più grande responsabilità verso dio la più grande responsabilità sulla faccia della terra non c'è presidente in ogni nazione non c'è predicatore né evangelista con la stessa responsabilità che noi abbiamo in questo tempo di condividere la vera parola di dio con quelli che sono chiamati fuori da ogni denominazione e dio vi ha posti come pastori sul gregge affinché vegliate sul gregge e cibbiate il gregge con il cibo spirituale dopo noi veniamo pure ad una delle principali affermazioni anche ciò che è stato mostrato al fratello brana e gli vide se stesso portare del cibo nel tabernacolo ma egli aveva delle grandi ceste piene di diverso cibo ma questo non era ancora il cibo sulla tavola era in grande quantità ma è la nostra responsabilità di preparare il cibo e metterlo a tavola per la gente è come qualcuno che va al supermercato e lì c'è tutto il cibo che avete di bisogno sulla tavola ma non è ancora sulla tavola dopo il cibo è preparato e poi la tavola eppure è preparata ed è messo là e dopo noi condividiamo il cibo con la gente nella giusta maniera secondo la parola di Dio così cari fratelli noi abbiamo veramente una grande responsabilità ci sono alcuni versi sul mio cuore non parlerò a lungo leggo soltanto dal salmo 105 verso 39 salmo 105 verso 39 e egli distese una nuvola per ripararli e acceso un fuoco per illuminarli di notte verso 41 aprì la roccia e ne scaturirono acque esse scorrevano come fiume nel deserto verso 42 egli si ricordò della sua santa parola gloria a Dio non solo promesse egli si ricordò della sua santa parola ed anche da bramo suo servo fece uscire il suo popolo con letizia e i suoi eletti con grida gioia miei cari fratelli nel nostro tempo egli si ricorda molte delle sue sante promesse se noi parliamo della responsabilità sappiamo che Dio ha preso tutta la responsabilità e gli ha dato tutte le sante promesse ha iniziato l'opera di redenzione e terminerà l'opera di redenzione ma egli ha bisogno di voi ha bisogno di me perché egli ha posto diversi ministeri nella chiesa così non dimenticate mai questo egli si ricorda delle sue sante promesse questo è qualcosa di meraviglioso abramo camminava come il resto delle persone sulla terra e dopo venne il giorno il giorno speciale all'improvviso il signore visitò abramo e parlò a lui come un uomo parla ad un altro nell'antico testamento ciò era possibile che il signore della gloria il quale era in un corpo spirituale potesse manifestare se stesso allo stesso tempo in un corpo fisico infatti in genesi capitolo 18 quando il nostro signore visitò di nuovo abramo egli si sedette mangiò e beve mangiò una bistecca e dopo beve e pranzò con abramo ciò è possibile con dio ogni cosa è possibile non vi preoccupate non cercate persino di comprendere tuttavia quello che dobbiamo comprendere è questo a me piace parlare di dio riguardo a dio che usci fuori dall'eternità nell'eternità nessuno ha mai visto dio è impossibile in spirito luce vita egli era tutto in se stesso nel principio non nell'eternità nel principio nel principio l'eternità non ha un inizio l'eternità non ha una fine nel principio l'onnipotente dio che non poteva essere visto da alcuno venne in una forma visibile di apparizione creando ogni cosa nel nuovo testamento noi leggiamo nel principio era la parola nell'antico testamento leggiamo nel principio dio creò i cieli e la terra dobbiamo prendere di nuovo insieme l'antico e il nuovo testamento e dopo abbiamo la piena comprensione che il medesimo che camminava nel giardino dell'eden è il signore del nuovo testamento così noi comprendiamo dalla parola di dio l'importanza di prendere insieme l'antico e il nuovo testamento e per favore non cercate mai di spiegarlo e se predicate predicate in modo equilibrato e non martellate su un soggetto troppo a lungo no andate da un soggetto all'altro vi dico perché se martellate troppo a lungo su un soggetto lì c'è uno spirito di fanatismo che si unisce a voi come la gente dei Gesù solo quando essi compresero che non c'era una trinità hanno recato l'insegnamento di Gesù solo in ogni sermone in ogni sermone ed essi non hanno altro da predicare e fraintendono totalmente essi fraintendono non si tratta di Gesù solo è Dio solo che ha manifestato se stesso in Gesù Cristo il nostro Signore ma se le persone fanno una speciale dottrina c'è qualcosa di errato persino se parlate di ciò che accadde nel giardino dell'Eden non entrate nei dettagli andate così lontano come va la scrittura non andate più avanti prendete tutta la scrittura potete prendere seconda corinzi capitolo undici potete prendere prima giovanni capitolo due potete prendere e potete prendere tutte le scritture perché sapete quello che Dio ha fatto Dio non ha mai detto tutto in un solo posto e gli dice qualcosa qui è dopo qualcosa veramente lontano lontano da qualche parte e nessuno lo troverà a meno che siate guidati dallo spirito santo loro possono chiudere tutti i seminari li possono chiudere solo lo spirito santo guida in tutta la verità come in genesi capitolo due e tre eva disse il serpente mi assedotta in seconda corinzi capitolo undici l'apostolo paolo dice temo che come il nemico ha sedotto eva anche voi siate sedotti e dopo voi trovate la parola chiave e con questa parola chiave andate attraverso la bibbia e vedete come lo spirito santo ve lo rivela tuttavia voi non predicate un intero sermone su quello che è accaduto nel giardino dell'Eden predicate non più di dieci minuti al riguardo quello dovrebbe essere tutto e continuate a predicare il vangelo fratelli è molto importante di non stare troppo a lungo su un soggetto non essere fanatici al riguardo predicate con amore secondo la parola di dio la stessa cosa è con il soggetto della deità e del battesimo in acqua non dovete martellare tutto il tempo predicate in modo equilibrato tutto il consiglio di dio e la stessa cosa con le affermazioni del fratello brano voi andate da un'affermazione all'altra e li portate ad un comune denominatore e dopo li riportate indietro nella scrittura e allora il messaggio è la parola e la parola è il messaggio non non c'è contraddizione se c'è contraddizione è nella mente delle persone non nella parola di dio ritorniamo indietro a questo verso qui nel verso 42 egli si ricorda delle sue sante promesse io ho predicato in tutto il mondo i veri figli di dio sono i figli della promessa ricevono la parola della promessa e ricevono pure lo spirito della promessa egli si ricorda delle sue sante promesse egli si ricorda delle sue sante promesse nel nostro tempo egli ha dato la promessa io vi mando il profeta elia e quando è giunto il tempo dell'adempimento egli si è ricordato io non lo ricordavo non ero a conoscenza di quella promessa ma egli si ricorda io ho dato la promessa 2400 anni fa ho dato la promessa alleluia io ho dato la promessa ed ho raggiunto il tempo dell'adempimento io ricordo la mia santa promessa quello è il vangelo di Gesù Cristo egli si ricordò della sua santa promessa che il figlio sarebbe nato sin dal giardino dell'eden egli diede la promessa lungo tutto l'antico testamento e quando il tempo fu compiuto si è ricordato della sua santa promessa e la promessa è stata impiuta è una cosa così meravigliosa sapere che Dio vigila sulla sua parola persino ora non solo duemila anni fa nel nostro tempo Dio ha vigilato sulla sua parola promessa quando il fratello Branham ha avuto il suo ministero Dio veglia su di voi voi siete parte di quella promessa di Dio per questo giorno io lo so come vi sentite so come mi sento io mi sento indegno ma quando arriviamo alla faccenda sappiamo in chi abbiamo creduto sappiamo di credere le sante promesse di Dio tuttavia non alziamo il naso perché dovremmo farlo tutto ciò è la grazia di Dio solo la grazia di Dio che è stata con Abramo quando il Signore gli ha parlato egli non conosceva il Signore era la prima volta ma dal primo momento dal primo momento egli credette è la stessa cosa con voi è la stessa cosa con me nel momento in cui il Signore ci parla noi crediamo crediamo quello che gli dice non c'è alcun dubbio noi crediamo quello che gli dice ed ecco quando inizia il nostro cammino con il Signore noi conosciamo lui tramite rivelazione divina conosciamo la sua parola tramite rivelazione divina conosciamo le sue promesse tramite rivelazione divina e rispettiamo quello che Dio fa proprio ora noi potremmo andare in molti posti nel nuovo testamento potremmo andare in seconda corinzi capitolo 1 verso 20 tutte le promesse di Dio sono sì ed amene tramite Cristo per mezzo nostro quella è una delle principali scritture tutte le promesse di Dio non sono soltanto sì ed amen ma tramite Gesù Cristo per mezzo nostro leggetelo leggetelo affinché sappiate che Dio fa ogni cosa con noi i credenti seconda corinzi sì capitolo 1 verso 20 infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in lui perciò pure per mezzo di lui noi pronunciamo l'amen alla gloria di Dio noi siamo inclusi ora noi siamo il popolo di Dio non siamo una denominazione non c'è un vescovo non c'è qualcuno intorno non c'è un quartier generale no noi siamo chiamati divinamente chiamati per credere quello che dice la parola di Dio ed avere parte in tutte le promesse che Dio ha fatto e noi l'abbiamo enfatizzato molte volte che tramite le promesse noi siamo partecipi della natura divina ecco come l'apostolo Pietro ha scritto noi abbiamo le meravigliose promesse per le quali siamo partecipi della natura divina secondo Pietro capitolo 1 verso 4 per le quali egli ci ha allargito le sue preziose grandissime promesse onde per loro mezzo voi foste fatti partecipi della natura divina la parola di dio è una sostanza divina è il seme di dio se prendete quella parola nella vostra anima voi prendete la natura divina nella vostra anima perché la parola di dio è spirito e vita così noi comprendiamo da quello che ha detto il fratello brana è una rivelazione divina fra voi è dio noi possiamo insegnare la parola di dio possiamo anche predicare il vangelo di gesù cristo ma la rivelazione divina viene da dio è fra voi è dio perciò noi abbiamo bisogno della personale relazione con il nostro signore lasciate che riassumiamo quello che abbiamo cercato di dire in questa sera in questo servizio dio ha un piano di salvezza ed egli completa il suo piano di salvezza nel nostro tempo ed egli ha dato la promessa di mandarci un profeta prima che venga il terribile giorno del signore egli si ricorda delle sue sante promesse egli mantiene la sua parola ha mandato un profeta con un messaggio che precederà la seconda venuta di cristo io ho una domanda per voi perché siete venuti ad ascoltare quello che dio fa ora quando io ho ascoltato il fratello brana nel 1955 c'erano migliaia di persone penso che la folla era di 18 mila persone c'erano molti predicatori da tutta l'Europa occidentale forse io ero il più giovane fra tutti i predicatori tutti i predicatori erano entusiasmati di ciò che vedevano accadere ma non incontrai alcuno che si domandasse cosa insegna questo uomo cosa crede quando avete ascoltato il messaggio qual è stata la vostra domanda cosa c'era nel vostro cuore cosa c'è collegato con questo ministero qual è lo scopo quando giovanni ebbe il suo ministero c'era uno scopo divino collegato al suo ministero quando gesù cristo il figlio di dio ebbe il suo ministero c'erano delle scritture che si erano adempiute c'era uno scopo divino collegato al suo ministero quando l'apostolo pietro ebbe il suo ministero c'era uno scopo divino collegato al suo ministero quando l'apostolo paolo ebbe il suo ministero c'era uno scopo divino collegato a quel ministero che ne è di voi che ne è di me che ne è di noi oggi fratelli e sorelle intendevo fratelli ma erano là ok noi comprendiamo dalla parola di dio che possiamo dire facilmente il fratello brana ha avuto la più grande responsabilità forse qualcuno di voi dirà il fratello franca ha pure una responsabilità e forse il fratello john il fratello daniel che ne è della vostra responsabilità ognuno di noi ha una responsabilità davanti a dio di condividere la stessa parola di ricevere la stessa rivelazione la stessa rivelazione tramite lo stesso spirito santo e dopo prendiamo seriamente questa responsabilità dico dico questo con tutto il mio cuore noi abbiamo ora la più grande responsabilità in collegamento con il piano di salvezza avete compreso questo questo è in collegamento con il piano finale di salvezza non è il messaggio di william brana è la parola promessa di dio per questo giorno dio si è usato il fratello brana per portarci questa parola e c'è il più grande scopo collegato a questa predicazione ed a questo ministero dio si ricorda delle sue sante promesse per sempre noi diamo gloria al suo santo nome e per favore per favore prendete in considerazione voi siete stati scelti prima della fondazione del mondo per avere parte in quello che dio fa proprio ora voi non siete da qualche parte in una denominazione non vi dondolate avanti e indietro in una riunione carismatica ma siete sotto la parola di dio credendo le sante promesse di dio riconoscendo quello che dio fa in questo tempo ed avendo una parte diretta in ciò miei cari fratelli noi comprendiamo dalla parola di dio che questo è il tempo di dio per completare la sua opera con le nazioni gentili e dopo volgersi a israele e terminare la sua opera con israele e dopo sarà sul monte sion come dice la scrittura dio ha un piano meraviglioso è tutto in questo libro tuttavia a meno che dio ve lo rivela voi non lo troverete non lo vedrete possa dio obbedirvi possa egli essere con voi possa darvi rivelazione divina restate umili ma pieni di coraggio si potete essere baldanzosi perché la parola di dio è certa pieni di coraggio sì quello è vero quello è vero noi abbiamo la vera parola di dio la vera rivelazione di gesù cristo e lo spirito santo ci guida in tutta la parola di dio io dico questo con profonda gratitudine se guardo indietro a più di 40 anni da quando il fratello brano si è dipartito come lo spirito santo ha guidato sempre più in profondità nella sua parola dandoci sempre più intendimento del suo piano di salvezza ed io so che questo è vero non c'è mai stato un tempo sulla faccia della terra in cui questo piano di salvezza in cui questa parola di dio è stata rivelata in una maniera così grande e magnifica come nel nostro tempo e voi avete il privilegio di conoscerla tramite rivelazione divina il privilegio di avere parte in quello che dio fa proprio ora cari fratelli voi lo sapete la romania ha un posto speciale nel mio cuore sono venuto molto trebole nel mio corpo dal mio ultimo viaggio 14 volte sono decollato e atterrato e predicando predicando ma sono felice di essere qui per condividere la parola di dio con voi il signore vi benedica il signore si usi di voi il signore sia con voi e vi renda di benedizione per altri nel nome santo di gesù non lo dimenticate mai dio si ricorda delle sue sante promesse alziamoci in piedi e preghiamo pregheremo in generale si si se ci sono speciali richieste pregheremo insieme e crederemo insieme anche riguardo a questo abbiamo sante promesse se andate in marco capitolo 16 abbiamo la santa promessa imporranno le mani sui malati ed essi saranno sanati abbiamo il libro degli atti dove dio confermava la sua parola non c'era persino bisogno di imporre le mani ogni volta c'era l'ombra di pietro che era sufficiente a guarire i fazzoletti e i grembiuli di paolo erano sufficienti a guarire dio lo fa in molte maniere ma egli conferma la sua parola egli conferma la sua parola in questo servizio se voi credete per favore credete soltanto e rigettate la malattia rigettate la malattia noi prendiamo posizione diciamo malattia non sei parte di me la mia anima è redenta il mio spirito è redento il mio corpo è redento io sono redento sono un figlio di dio e il mio corpo è il tempio dello spirito santo e voi vedrete la gloria di dio riceverete guarigione tramite la potenza di dio credete soltanto ora e secondo marco capitolo undici dal verso 22 tutto quello che credete nel vostro cuore in primo luogo voi pregate dopo credete e poi parlate voi confessate con vostre labbra quello che credete nel vostro cuore quello per cui pregate e dopo dite a questo monte dite a questa malattia qualunque possa essere dipartiti da me dipartiti da me dipartiti da me nel nome di gesù cristo io sono un figlio di dio redento il sangue è stato sparso per me io sono un figlio di dio satana allontanati da me satana sparisce da qui nel nome di gesù cristo miei cari fratelli i giorni della bibbia sono di nuovo qui dio si ricorda delle sue sante promesse dio conferma le sue sante promesse stasera 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 ricevete tutta la benedizione di dio tramite la potenza di dio nel nome santo di gesù alleluia 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 gloria a dio gloria a dio gloria a dio oh signore grazie signore gloria a dio cantiamo gloria a gesù a shù a a a it Grazie.